Io mi sono occupato di un po' di cose nella mia vita, ma vorrei dire che quando ero un pochino più grande di voi, cioè al secondo anno di università, ho preso una delle scelte, in realtà ho fatto le due scelte più importanti della mia vita. La prima è che ho incontrato quella che è diventata poi la mia futura moglie, la mia moglie, e quindi incontro importante. E secondo, sì sono ancora sposato dopo tanti anni, sì effettivamente, e la seconda cosa è che lessi un libro che mi ha spinto a fare una scelta professionale e quello di cui parlerò oggi ha molto a che fare con quel libro. Quel libro spiegava più o meno il caos che il mondo sarebbe stato intorno al 2020. Era basato su una serie di analisi, era basato in particolare su delle previsioni fatte con dei modelli statistici, econometrici. I modelli econometrici sono quegli strumenti che integrano la matematica, l'economia, la statistica per capire come ci si comporta, come si comportano le imprese, i consumatori, come si può prevedere il futuro, con tutti i rischi che questo comporta. Bene, nel 1972 un italiano, Aurelio Peccei, fondò il cosiddetto club di Roma. E quel gruppo di scienziati fece delle previsioni. E per tanti anni quegli scienziati sono stati presi un po' in giro, da tutto il mondo, perché prevedevano la fine del petrolio, le difficoltà ambientali e così via. Questo grafico mostra le previsioni delle previsioni con le linee tratteggiate fatte 40 anni fa. Le linee continue sono i dati reali. La linea verde riguarda la popolazione, la crescita straordinaria della popolazione, destinata secondo quei modelli a raggiungere circa gli 8 miliardi e mezzo intorno al 2030-2040 quando il sistema collassa. E in poche decine di anni si torna a 3-4 miliardi di mezzamento della popolazione. Wow! Io leggendo questo libro, leggendo, dissi, mamma mia che casino, hanno bisogno di qualcuno che dia una mano. E decisi di fare l'economista, invece di dedicarmi ad altre attività. Ed è abbastanza interessante, emozionante oggi ragazzi, dopo più di 40 anni, anni, venirvi a raccontare, anzi 40 anni esatti perché appunto era il 1976, venirvi a raccontare che purtroppo il 25 settembre del 2015 i leader del mondo hanno detto che questo scenario è assolutamente probabile e che dobbiamo cambiare il nostro mondo se non vogliamo portare a raccontare questi risultati non alle future generazioni. Vedete, per tanto tempo si è pensato che la sostenibilità fosse una cosa sulle future generazioni, ma è una cosa che riguarda questa generazione. E hanno deciso di cambiare il verso della storia del mondo, dichiarando che il mondo è su un sentiero non sostenibile. Anni fa Marx disse, perché dovrebbe importarmene delle generazioni future? cosa hanno fatto loro per me? Non mi riferisco a Karl Marx, mi riferisco a Gruscio Marx. Sapete chi è Gruscio Marx? Anche perché questa battuta l'ha rifatta spesso Woody Allen. e questa battuta coglie il punto fondamentale delle persone, è un pugno nello stomaco alle persone della mia età e anche quelle più grandi. Perché dovrebbe interessarmi delle generazioni future? cosa hanno fatto loro per me? Se in altri termini io penso che il futuro riguardi altri e non me, io non sento la responsabilità di assicurare ad altri un futuro. e quindi arraffo, cosa arraffo? Arraffo la natura, distruggendola. Arraffo i soldi, magari indebitandomi a tassi di interesse incredibili e poi qualcuno pagherà i debiti, magari sfruttando i lavoratori che lavorano nella mia azienda, e da tanto quelli possono essere sfruttati, non succederà nulla. Prendo i bambini a lavorare e li metto in una condizione di schiavitù. Ecco, tutte queste cose che vi ho raccontato sono reali. È il modo con cui il mondo si è comportato per l'ultimo secolo in particolare. Non perché prima non accadessero queste cose, ma nell'ultimo secolo ci siamo detti che queste cose erano sbagliate. Con la dichiarazione dei diritti dell'uomo dopo la seconda guerra mondiale abbiamo detto basta, ma invece abbiamo continuato a occuparci delle cose come se il mondo appunto non dovesse avere un futuro che andava al di là della mia realtà di oggi. In realtà sono più di 25 anni che il mondo si è reso conto di essere in una situazione di insostenibilità. E la commissione Brundtland, una commissione guidata dall'ex primo ministro norvegese, ha spiegato che la sostenibilità si ha quando una generazione soddisfa i propri bisogni senza farsi da impedire, diciamo, senza impedire alla generazione successiva di fare altrettanto. In altri termini, io soddisfo i miei bisogni, ma lascio a chi viene dopo di me la possibilità di soddisfare i propri e quindi non arraffo quello che in realtà aspetterebbe chi deve venire dopo di me. Questo concetto di sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che appunto non distrugge la possibilità per chi verrà dopo di noi di soddisfare i propri bisogni, questo concetto è il concetto che finalmente è stato messo alla base dell'agenda del mondo, il 25 settembre. Se io vi dico 11 settembre, voi immediatamente avete in testa a cosa mi riferisco, 11 settembre del 2001. Io tra l'altro ero in Canada in quel giorno, quindi ricordo bene i giorni successivi essendo bloccato in Canada e non potendo rientrare in Italia, perché erano stati chiuse i cieli nordamericani. Ma se vi dico 25 settembre, voi conoscete forse il 29 settembre, la canzone di Lucio Battisti, di nuovo forse parlo della mia generazione. Vedete, la critica di Marx, appunto Gruscio Marx, ormai è superata. Anche Woody Allen non potrebbe più usare quel tipo di critica, perché appunto la questione non riguarda più le future generazioni, ma riguarda questa generazione. L'altro passo avanti molto importante che si è fatto in questi ultimi anni, e in particolare a settembre dell'anno scorso, è che la cosa che si è capita è che non è una questione puramente ambientale. Cioè se voi pensate allo sviluppo sostenibile, probabilmente se ne avete già sentito parlare, a voi viene in mente l'ambiente. Distruggere le foreste, l'aria, l'acqua, l'inquinamento. E questo è certamente molto vero, ma non è l'unica storia. Ormai sappiamo che noi dobbiamo realizzare il nostro sviluppo all'interno dei cosiddetti vincoli planetari. Cioè che abbiamo dei limiti oltre i quali non possiamo andare, perché ad esempio se scarichiamo troppa anidride carbonica nell'aria, a un certo punto moriamo. Non c'è abbastanza ossigeno per respirare. Immaginate questo come il soffitto. Non possiamo superare il soffitto di questa stanza. Però esiste anche un pavimento sotto il quale non possiamo andare. Un esempio? L'Italia viene dalla crisi, e ancora, nella crisi più grave della sua storia economica. 4 milioni e 100 mila persone, di cui oltre un milione sono minori, vive in condizioni di povertà assoluta in Italia. Cioè non hanno il sufficiente per vivere. Questa è una crisi economica, epocale. E allora capite che, al di là del soffitto dato appunto dai limiti del pianeta, esiste un pavimento che è dato dai limiti sociali. Se cioè noi, ad esempio, rallentiamo la crescita economica per produrre meno CO2, meno rifiuti, ma questo determina meno occupazione e quindi più povertà, il sistema diventa altrettanto insostenibile quanto un sistema che si schianta sul soffitto. Questo vuol dire che noi dobbiamo inventare, sviluppare un nuovo modello di sviluppo, un nuovo modo di stare insieme, di lavorare, di fare una serie di cose che adesso vi farò vedere, rispettando i vincoli superiori, il soffitto, ma anche evitando di finire nel sottoscala. Cioè di andare sotto i limiti sociali che rendono il sistema instabile. Naturalmente voi sapete che l'Europa sta vivendo un momento difficilissimo a causa delle migrazioni. che cosa ha determinato le migrazioni dalla Siria, ad esempio? Qualcuno lo sa? La guerra? Ma da cosa è nata la guerra? Qualcuno ha sentito parlare delle primavere arabe? Egitto, Tunisia, alcuni anni fa? La rivolta delle piazze arabe? Qualcuno ha idea di che cosa scatenò quella reazione di popolo? In realtà le primavere arabe nascono, la gente se lo dimentica, perché in quell'anno, il 2007, prima quindi della crisi finanziaria, che poi determinò la recessione negli Stati Uniti e così via, ci furono i prezzi dei prodotti agricoli che andarono alle stelle a causa di siccità, a causa di sottoproduzione in varie parti del mondo. I prezzi degli alimentari andarono alle stelle e cominciarono in alcuni paesi a non essere più disponibili. In Egitto, in Tunisia e così via, si verificò anche un altro fenomeno, blackout elettrici. Quindi la popolazione cominciò a non avere più da mangiare, non più energia elettrica, e era evidente che il governo non era in grado di rispondere a questi bisogni. Quello determinò la reazione. Le difficoltà della Siria sono in forte parte, in grande parte, determinate, furono determinate, da un problema di siccità. Secondo l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, nei prossimi 10-15 anni ci aspettano 250 milioni di migranti in giro per il mondo a causa del cambiamento climatico. Non tutte verranno in Italia o in Europa. Ma voi capite che il cambiamento climatico vuol dire siccità, vuol dire impossibilità vivere nei posti dove sono cresciuto finora, la necessità di spostarmi da un'altra parte. E le migrazioni non sempre sono accettate dalle popolazioni che ricevono i migranti. Allora, se voi cominciate a unire i puntini, talvolta ci sono i giochini, unite i puntini e vedete che cosa uscirà, capite che una serie di fenomeni che stanno accadendo in giro per il mondo sono molto più legati tra di loro di quello che siamo abituati a pensare. E tutto questo fa sì che la sostenibilità non sia solo una questione ambientale o energetica, ma diventi una questione economica, sociale, istituzionale. E questo rende questo sistema così intricato, così difficile, così complicato da risolvere. Noi abbiamo vissuto nel secondo dopoguerra, dal secondo dopoguerra, 70 anni straordinari di crescita economica, miglioramento dell'educazione, di speranza di vita, cioè di lunghezza della vita, che ha avuto degli aumenti assolutamente vertiginosi. Negli ultimi 20 anni, con la globalizzazione, centinaia di milioni, direi miliardi di persone sono uscite da uno stato di povertà estrema che le condannava in molti casi alla morte per fame. Ma noi guardavamo da un'altra parte, noi paesi occidentali, guardavamo da un'altra parte. Magari sfruttavamo le risorse non solo dell'Africa, del Brasile, insomma, delle risorse in giro per il mondo e quel processo fino appunto a 20-30 anni fa aveva riguardato un po' di centinaia di milioni di persone. Se sommiamo gli Stati Uniti e l'Europa facciamo circa 800 milioni di persone. Gli altri miliardi se la dovevano vedere per conto loro. 30 anni, 25 anni di crescita economica secondo i modelli occidentali in India, in Africa, in America Latina, in Cina, eccetera, hanno reso evidente che noi se non cambiamo direzione non reggiamo. Ci servirebbero cinque pianeti se tutto il mondo seguisse lo stile di vita americano in termini di energia, in termini di sprechi, in termini di... Ci servirebbero cinque pianeti. Non ce li abbiamo. ecco la previsione che vedete lì. Perché quando si dice stiamo distruggendo il pianeta non è vero. Il pianeta è molto più forte di noi. Saremo noi a soccombere. Quel crollo della popolazione è il fatto che se noi non ci riorganizziamo nei sistemi economici, sociali, sarà il pianeta a imporci i suoi limiti. La buona notizia è che è possibile cambiare direzione. Non è impossibile. La tecnologia di cui oggi disponiamo ci consente di fare cose straordinarie. Non solo chattare, non solo queste cose molto importanti. Ma ci consente di ridurre i consumi energetici, di ridurre l'inquinamento, di ridurre i danni che facciamo senza necessariamente limitare lo sviluppo. Questa è la scommessa. La scommessa è cioè di immaginare un nuovo modello di sviluppo che ci faccia stare tra il soffitto e il pavimento. È un percorso, è un corridoio stretto. Ma non è impossibile. a patto che da domani noi cambiamo. Se gli Stati Uniti tutti adottassero gli stessi comportamenti e gli stessi standard energetici della California, gli Stati Uniti consumerebbero il 30-40% in meno di energia. Peccato che non lo fanno. se avete la possibilità di andare negli Stati Uniti scoprireste quante macchine ibride ci sono in California. Quante poche ce ne sono in altre parti degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono folli perché tu vai ad agosto e devi stare dentro gli edifici con le giacche perché l'aria condizionata è così fredda che ti devi coprire e d'inverno vai negli uffici in camicia perché fa così caldo che non puoi tenere la giacca. Questo non ha senso. Ed è solo un esempio. La buona notizia è che appunto il mondo a settembre del 2015 ha deciso di cambiare direzione. e il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha detto qualcosa che mostra che la scelta è davanti a noi ma non solo dei politici ragazzi. Questo è il punto chiave questa è la ragione per cui sono contento di essere qui con voi oggi. La scelta è con ognuno di noi. quanta acqua sprechiamo quanta energia sprechiamo quanto spesso lasciamo le luci accese inutilmente quanta acqua sprechiamo quando ci laviamo i denti o facciamo la barba o facciamo il bagno quello che sia come scegliamo i prodotti che compriamo come pensiamo nelle relazioni interpersonali tra di noi quali pensiamo debbano essere i diritti dei più piccoli tra di voi nel mondo vivono 800 milioni di persone in povertà estrema un miliardo e mezzo di persone riceve solo il 5% del prodotto interno lordo del mondo la popolazione totale appunto vi ricordo è di circa 7 miliardi e mezzo ci sono 800 milioni di persone sottonutrite ma 600 milioni di obesi metà della produzione agricola viene sprecata prima di arrivare sulle nostre tavole ci sono 250 milioni di bambini analfabeti e non riguarda solo i paesi in via di sviluppo il 50% delle persone nel mondo non ha un'educazione secondaria superiore come quella che state voi acquisendo 50% mezzo miliardo di persone più ricche ha il 90% della ricchezza del mondo 12 milioni di ettari di nuovi deserti avanzano ogni anno abbiamo 200 milioni di disoccupati nel mondo 60 milioni sono in schiavitù 700 milioni di persone non hanno acqua pulita l'80% delle acque di scarto non vengono ripulite e quindi vanno a inquinare i terreni le falde acquifere e così via un miliardo e 400 milioni di persone non hanno energia elettrica e così facendo bruciano legno carbone e così facendo mettono una quantità di anidride carbonica in circolo per il mondo rendendo l'aria respirabile su tutto il pianeta l'8% delle specie animali sono scomparse il 22% sono a rischio questo è quello che ormai gli scienziati tra qualche settimana dovrebbero deciderlo ufficialmente chiamano l'antropocene voi avete studiato le ere geologiche l'olocene eccetera eccetera bene gli scienziati hanno deciso che c'è una nuova era geologica che si chiama antropocene è la prima volta nei milioni di storia di questo pianeta che il pianeta cambia a causa dell'uomo l'agenda globale che appunto l'ONU ha concordato e su cui l'Italia si è impegnata prevede 17 obiettivi poi articolati in 169 sotto obiettivi e questi obiettivi riguardano la povertà l'alimentazione la salute l'educazione l'occupazione la crescita economica la condizione dell'ambiente gli oceani i mari la terra l'aria riguardano i diritti degli uomini delle donne le disuguaglianze riguardano l'aiuto allo sviluppo ma riguardano anche le forme di governo la qualità della cosiddetta governance parola che non abbiamo neanche per la quale non abbiamo una traduzione italiana sarà un caso la governance è l'insieme delle regole con le quali funziona una società finalmente abbiamo una visione integrata una visione integrata di come dovrebbe funzionare l'economia la società l'ambiente le istituzioni l'Italia ha sottoscritto questi impegni il 25 settembre del 2015 e poi se ne è dimenticata al punto tale che abbiamo dovuto tradurre addirittura noi in italiano questi sottobiettivi nessuno ne parla un esempio concreto beh sono obiettivi al 2030 2030 Dio vede provvede come si suol dire sì ci sono anche degli obiettivi molto più vicini uno vi riguarda molto da vicino e riguarda i cosiddetti net sapete chi sono i net sono i giovani che non studiano e non lavorano sono giovani inattivi che hanno finito il percorso di studi o hanno abbandonato la scuola e non fanno nulla perché sono disoccupati o addirittura non cercano neanche lavoro sapete quanti sono in Italia due milioni e mezzo e ci siamo impegnati come Italia a ridurre drasticamente questo numero entro il 2020 cioè dopo domani ma non lo sappiamo che ci siamo presi questi impegni per questo è nata vedete questi sono appunto questi goal questi obiettivi e uno potrebbe dire ah bello bel libro dei sogni complimenti vi gingillate a fare queste cose a livello internazionale il grande cambiamento che si è determinato a settembre è che non c'è più distanza tra i paesi non c'è più differenza tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo perché a tutti compete il compito di trasformare il mondo da questo punto di vista come abbiamo detto siamo tutti paesi in via di sviluppo sostenibile e ogni paese deve fare la sua parte l'Italia non è messa molto bene su tanti aspetti per questo abbiamo mi sono inventato a ottobre del 2015 questa alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile in cui abbiamo messo insieme i sindacati con le associazioni degli imprenditori quelle femminili con quelle ambientaliste 30 fondazioni italiane di tutte le parti politiche per tentare di mobilitare l'Italia per fare la nostra parte come diceva John Lennon nella canzone Imagine questa la conoscete di più puoi dire che potrete dire che sono assolutamente un sognatore sì la buona notizia è che ce ne sono tanti più di quelli che forse voi potete immaginare perché vedete il punto è proprio questo qui non si tratta di sognare il futuro qui si tratta di realizzarlo e realizzarlo è molto legato alle altre parole che affrontate in questa sequenza di incontri vuol dire essere in grado di capire di diventare adulti nel senso di riuscire a comprendere la complessità del mondo decidere che posto avere in questo mondo e poi con sacrificio sarà l'ultima parola dei vostri incontri contribuire a trasformarlo questo mondo il Papa nella sua enciclica laudato sì che vi invito decisamente a guardare ha delle parole durissime e c'è un passaggio particolarmente forte sul quale io sono assolutamente d'accordo e non entro nei dettagli ma che mi autorizza a dire con più forza diciamo quello che da un po' di tempo andavo dicendo che la cultura che produce lo scarto fisico che inquina è la stessa cultura che produce gli scarti umani i poveri i disoccupati gli schiavi è esattamente lo stesso approccio la stessa cultura la cultura della sopraffazione del fatto come diceva in un film Alberto Sordi anni fa il Marchese e il Grillo io so io e voi non siete puntini puntini questa idea di io so io e voi non siete puntini puntini è un'idea molto radicata molto profonda che vediamo continuamente ma è un'idea che ci ha portato alla insostenibilità non dobbiamo essere spaventati preoccupati sì ma spaventati no perché abbiamo ancora la possibilità di cambiare quelle curve che vi ho fatto vedere all'inizio il futuro non è necessariamente segnato però se non ci siete voi a domandare ai politici di turno agli imprenditori di turno che questo è il mondo che voi non volete che voi ne volete un altro e farete poi magari le vostre scelte professionali di vita per rendere questo mondo più sostenibile allora se così riuscirete a fare se così riusciremo a fare queste curve non si realizzeranno bisogna farsi un un bip così però ve lo dico molto apertamente voi siete tanti in questa stanza e ognuno di voi non so quante centinaia di amici ha su facebook se ognuno di voi comincia a trasmettere questi messaggi e contribuisce a cambiare sono sicuro che dalla insostenibilità non solo passeremo alla sostenibilità ma che il nostro mondo sarà molto più bello di quello che oggi vediamo e così facendo riusciremo a superare la paura del futuro che blocca tantissime nel libro che la professoressa citava scegliere il futuro concludo dicendo sta a noi sceglierlo sta a voi sceglierlo qui e adesso grazie scusate ho dimenticato di farvi vedere una cosa lo trovate su youtube queste sono due scimmiette che fanno lo stesso mestiere gli viene dato un sassolino e devono semplicemente prenderlo e spostarlo da una parte all'altra e in cambio ricevono un pezzetto di cetriolo a un certo punto a una delle due al posto del cetriolo viene dato un acino d'uva e quella sulla destra guardate cosa fa quella di sinistra a quello lì di nuovo fa il lavoretto e gli viene dato un acino d'uva questo qui gli chiedono di fare il lavoretto alla fine lo fa e riceve di nuovo un pezzo di cetriolo questa è l'ingiustizia questo per dirvi se addirittura le scimmie reagiscono all'ingiustizia perché non sono pagate diciamo così retribuite nello stesso modo per lo stesso lavoro cosa dovrebbero fare quelli che sono in schiavitù quelli che vengono le donne in particolare pagate molto meno molto meno degli uomini a parità di lavoro questo è insostenibile anche questo è insostenibile